Ben ritrovati con lo spazio informativo, le notizie da Venezia. C'è qualcuno che è riuscito ad ottenere una casa popolare e il pagamento di un canone d'affitto irrisorio anche solo di 80 euro mensili. In realtà è stato poi accertato essere proprietario di immobile e di avere anche un conto corrente in banca da far davvero invidia. A fronte delle nuove disposizioni, dal primo luglio sono entrati in vigore infatti i nuovi canoni. A fronte delle nuove disposizioni, in base all'IS e del nucleo familiare, una parte degli inquilini ha visto un aumento del canone d'affitto delle case popolari. Un'altra parte invece ha visto una diminuzione. In realtà non si tratta sempre di furbetti, tanti sono i casi di pratiche compilate anche in modo erroneo. E così l'Ater Veneziano, in carico a circa un migliaio di queste pratiche, ha organizzato un gruppo di lavoro per velocizzare le richieste di voltura e per dare delle rassicurazioni agli inquilini. Gli interessati, ha detto Raffaele Speranzone, presidente di Ater Venezia, saranno contattati dall'ufficio dell'Ater. Nel caso non sia rinvenuto l'IS e aggiornato e sarà quindi poi avviata anche una procedura che consentirà il calcolo del nuovo canone. Saranno anche rimborsate le eventuali somme date in eccesso e quindi già versate in eccesso. Adesso invece passiamo ai trasporti perché saranno intensificati i servizi che collegano il Lido a Venezia, corso incrementato in occasione della mostra del cinema che partirà il 27 agosto e che sarà al Lido fino al 7 settembre. Come è già accaduto per le precedenti edizioni, la linea 20 che collega San Zaccaria e Lido verrà dal 13 agosto incrementata con 8 coppie di corse. Adesso invece passiamo alla località balneare Cavallino Treporti e al veronese Loris Perlini, l'ospite che ha dimostrato maggiore fedeltà a Cavallino Treporti per trascorrere le proprie vacanze. E così l'amministrazione comunale della località balneare lo ha riconosciuto ambasciatore del turismo, ma non è il solo, con lui anche l'olandese De Vries Connellis e dalla Germania Walter Goering con le rispettive famiglie. Vediamo servizio. La volta era selvaggia, era piena di dune, dune alte anche 2-3 metri, anche di più, anche così. Per arrivare alla spiaggia bisognava fare un percorso che non finiva mai. E' cambiato tutto, insomma, il tempo è cambiato. E questo è il posto ideale, insomma, per le vacanze, uno che vuole vivere in mezzo alla tranquillità, in mezzo al vero e rilassarsi. Cavallino Treporti direi è un caso internazionale, perché qua si è costruito il turismo assieme ai nostri ospiti. Loro vengono qua da tantissimi anni, non diciamo famiglie uniche, ma nonni, nipoti, genitori, figli. Si è creato questo circolo virtuoso che ci ha aiutato veramente a fare oltre 6 milioni di presenze qua, Cavallino Treporti. E tra le altre cose anche un bellissimo turismo, perché il tempo medio, diciamo, di intrattenimento qua per la vacanza oltrepassa 9 giorni. E questo è anche un dato molto importante, perché così gli ospiti rimangono molto di più da noi e con noi costruiscono proprio la destinazione. Abbiamo costruito una destinazione quasi su misura. Siamo riusciti a credere ai loro principi, a sentire quali sono le esigenze del territorio. Abbiamo cercato di unire le due cose e il risultato è questo. Un paese fantastico dove si passa una vacanza veramente meravigliosa e a misura di famiglia europea. Qui sentiamo famiglie che vengono da tantissimi anni. Qua abbiamo assistito alla presenza di una famiglia che viene da oltre 50 anni. Ma non solo, ma si sono sposati, hanno avuto figli, figli sono nati a San Donato. È una storia, diciamo, emozionante. Emozionante è proprio piena d'amore nei confronti di questo territorio. Una prova ulteriore, dovesse essere, ce n'è stato bisogno, che Cavallino Treporti è veramente tanto amata. Si tratta di un'onoreficenza per la quale si chiede la disponibilità anche a fare attività di promozione a persone che conoscono il nostro territorio, che lo frequentano da svariati decenni. E abbiamo visto che la migliore promozione è quella che si fa partendo dalle persone che già frequentano Cavallino Treporti e quindi già sono nel nostro territorio. Noi abbiamo percepito che le storie che ci vengono raccontate sono storie di un grande affetto nei confronti della nostra popolazione e di un grande attaccamento al nostro territorio. Quindi una grande soddisfazione per questi valori che vengono tramandati di padre in figlio per cui abbiamo di solito due o tre generazioni di persone che vengono a Cavallino Treporti. Passiamo ad un'altra località balneare. A Jesolo si amplia la rete del wifi pubblico con tre nuovi punti. di piazza Kennedy, al parco Cassilis nel centro storico e poi anche il parco Grifone al Lido di Jesolo. Si tratta di aree oggi non coperte che grazie ad un contributo stanziato dalla commissione nell'ambito del progetto Wifi4EU disporranno di hotspot per la connettività. Passiamo alla cronaca. Ieri pomeriggio a Murano nell'incrocio con il canale di Tessera un vaporetto a CTV e un taxi a Queo si sono scontrati. Due persone sono rimaste contuse. I feriti erano imbarcati nel taxi e da quanto è emerso da un primo riscontro sulla dinamica dei fatti sembra che i natanti non si siano visti. Ieri una signora di 76 anni è invece deceduta per un incidente nella sua abitazione a Vigonovo e è probabile che la donna stesse ispezionando la fossa biologica di casa quando è caduta di testa nel foro affocando poi nel pozzo. Parliamo invece di Bibione Ferragosto perché Bibione a Ferragosto sarà capofila per dire no alla plastica hashtag plastic free. È l'evento patrocinato dal Ministero dell'Ambiente che si inserisce nelle campagne ministeriali di sensibilità hashtag io sono ambiente e hashtag io sono mare. Bibione sarà appunto protagonista contro l'invasione dei mari dalla plastica e dalla microplastica. Ogni anno nel Mar Mediterraneo vengono scaricate 570.000 tonnellate di plastica, 8 milioni le tonnellate che vengono invece scaricate negli oceani ogni anno. Il giorno di Ferragosto ci sarà prima una conferenza stampa a Bibione dalle 10 alle 11, poi alle 11.30 i bagnanti saranno coinvolti in un tuffo collettivo. Verranno anche consegnate 10.000 coppie di tascabili dagli uffici di Bibione Spiaggia e Bibione Mare per evitare appunto l'uso della plastica. Previsioni del traffico per il weekend, domani la giornata più critica, rallentamenti tra Padova Est e il Bivio a 4 a 57 specialmente in direzione Trieste e poi rallentamenti anche per il mare e quindi sul raccordo Marco Polo in direzione di Jesolo. Per cui questo fine settimana bollino rosso per il traffico. Basket, pagina sportiva, parliamo di basket, basket femminile, Alex Ciabattoni, l'Italo-Australiana che la scorsa stagione vestiva la maglia del Ponzano in A2, adesso è stato confermato, farà parte del roster della prima squadra Oro-Granata e per cui Alex Ciabattoni nella squadra femminile della Reier Venezia. Con questo abbiamo concluso anche questa edizione, grazie per essere stati con noi, buon fine settimana e soprattutto un buon proseguimento con i nostri programmi. Arrivederci.